Hey, bentornati in questo nuovo episodio di Pokémon Perla, Egglock, io sono Lars e avrei voluto iniziare l'episodio almeno da dopo il barco Mineropoli per non perdere tempo, ma indovinate un po', Barry è venuto a rompermi le scatole prima ancora che iniziassi l'episodio, fantastico. Prima di iniziare però una cosa che effettivamente voglio dirvi è la sfida ovviamente dei 4.000 pollici in su, vediamo se anche in questo episodio riuscirete a raggiungere i 4.000 like al video. Vi spido, c'è la parete? Vedremo. Intanto, Barry, salve! Sì, ho preso la medaglia. Ok, sì, va bene la bicicletta, so come funziona, insomma ho finito questo gioco 20 volte almeno. Ok, prossimo obiettivo Evopoli, 10-9, chi ha tempo di fare il conto alla rovescia? Giustamente chi ha tempo di ascoltarti così tanto? Va bene, tutto ciò soltanto per dirmi questa roba? Ok, va bene, me la sarei potuta tranquillamente evitare. Eh, lo sapevo che sarebbe uscito il selvatico, guarda caso! Li ho comprati i repellenti, eh? Li ho comprati, ma non avevo voglia di sprecarli per questi pochi passi e ovviamente il Geodude è venuto a rompere le scatole proprio, guarda. Non avevo alcun dubbio, guardate come uscirà anche qui il selvatico, non è uscito! Incredibile, davvero. Allora, curato mi sono curato, gli acquisti li ho fatti, andiamo verso nord e... Team Galazia! Oh, te l'alzo, è un tempissimo perfetto, come sempre! Eh beh, giustamente. Queste canaglie fanno dei discorsi assurdi! Ok, dai, insegnerò io loro le buone maniere! Ci fornisca i risultati delle sue ricerche, in cambio noi lasceremo in pace i suoi assistenti. Cosa vuoi che ti distruggo? Ti distruggo, fatti sotto! Avanti, fammi vedere di cosa sei capace! Ma tu guarda questo! Recruita Galazia e Recruita Galazia, siete talmente poco importanti che non avete nemmeno un vostro nome proprio! Vi chiamate tutti quanti Recruita Galazia! Siete inutili, siete scarsi, siete... Cioè, veramente, veramente hanno Fibas e la sua evoluzione! Cioè, quanto randomizer tutto ciò! Lusinda ha un Poliwhirl! No! Non lo accetto, lo volevo io! Vabbè, Bad Phoenix mi avrà sicuramente messo un uovo con Poliwhirl, ne sono sicuro. Allora, 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 io eviterei di lasciare in campo Infernape contro due Pokémon di tipo acqua. Ora, potrei sperare nella randomizzazione che non avrà dato, ovviamente, a Fibas e Milotic e delle Mouse Stab. E invece no, perché ogni volta la randomizzazione me la mette in quel posticino. Quindi niente, Brando, tocca a te! Pestone! Attenzione, Poliwhirl! Muro di fumo, ok. Questo ovviamente la velocizzo, in quanto non è una lotta così importante. Sono solo... Giudizio colpisce tutti? Oh mio Dio, va bene. Allora, fendispazio sia. Colpo Karate, bollaraggio. Eh, l'avevo detto io che avrebbe avuto una mossa acqua. Figuriamoci! Ok! Intanto Mad è al 12. E abbiamo sconfitto le due belle reclutine del Team Galassia. Eh, non abbiamo altra scelta, però ci ritiriamo! E lo farete per tutta la serie, amici miei. Professore, allora... Sì, so cos'è il Team Galassia, andiamo. Anch'io un tempo ne facevo parte, in un'altra serie, in un altro mondo. Un po' più a cubetti. Aha, aha, ok, va bene. Lo so, vivite? Se sta zitta, sto parlando con il professore qui. Guarda com'è la snobbo, Lusinda. La snobbo di brutto, eh. Brava, vattene, vattene con il professore. Ah, oh mio Dio, arriva un altro. Ah, quello che ci regala tipo la roba per... Sì, 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 sì. Scatola chic! Grazie mille! Tipo della Giubilo TV. Una vasta gamba di accessori e sfondi. Vesti i tuoi Pokémon e valorizza il loro aspetto. Oh, 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 oh! Va bene! Ok! Ah, va benissimo, ciao! Verrò molto presto, sicuramente verrrò molto presto. Addio! Eh, me la devo svegliare, ragazzi. Allora, percorso 204, ho già fatto la mia cattura. Quindi sono a posto. Direi di far livellare un pochino anche gli altri. Quindi mettiamo davanti un pochino più, meno, meno, più e Erza. E facciamogli almeno salire al livello... Eh, vabbè, no, così l'Arza non guadagni niente, eh. Ah, mio Dio, non sono nemmeno capace a fare una cosa del genere! Va bene! Cerchiamo di farli salire un po' tutti al livello 10. Salve! Ok, si va! Prima allenatrice di oggi, a parte le reclute galassia, va bene. Sarebbe stato bello avere una mossa di tipo elettro contro questo Krabby, ma a quanto pare non deve andare così. Quindi, Brando! Ha usato riposo? Va bene, sei ancora a full vita, quindi... Ok, va bene, non mi faccio domande. Non mi faccio domande. Intanto livello 5 per Maglemite, percorso 204, Giubilopoli... Altro allenatorino! Oggi probabilmente faremo un bel po' di catture e faremo schiudere anche delle belle uova, se solo non mi mandassero dei leggendari contro. Suicun! Perché Suicun? Va bene, giudizio. Ok. Livello 6, Svegliopacca. Fantastico, Svegliopacca è di tipo lotta, quindi... Bene, perché aveva solo mosse normali, quindi... Allora, c'è Erza al 4, facciamo salire un pochino Erza. Togepi. Beh, 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 potrei impegnarmi a sconfiggerlo per i fatti miei, ma non credo ci riuscirei. Quindi sapete cosa faccio? Mando useless e provo a sconfiggerlo con useless. Esatto. Si coraggio. Molto, molto bene. C'è da nuotare. Oh, ma salve! È proprio da lontanissimo mi ha visto. Siamo in direzione comunque Giardin Fiorito. Uno dei miei paesini preferiti. È davvero bello. Cavolo. E otterremo del miele, quindi potremo fare anche delle catture sugli alberi. Non sarebbe male, in effetti. Sarebbe un po' lenta come cosa, ma non sarebbe male. Allora, direi di mandare... Oddio, ho paura a mandare Med. Mandiamo Med lo stesso, dai. Non ci voglio credere che ogni... Ok, Pokémon di tipo acqua poi debba avere veramente la mossa di tipo acqua. No! Mi rifiuto! Oh! Intanto più meno meno più livello 7. Stiamo andando abbastanza bene, devo dire. Abbiamo già fatto la cattura qui e poi Biduffo l'ho già preso, quindi niente. Ok. Cammino roccioso. Qui dentro possiamo fare una cattura. Ah, ci sono dei massi che bloccano la strada. È il momento di insegnare spaccaroccia a qualcuno. Che rottura! A proposito però, nel cammino roccioso, Geodude, Zubat e Onix li abbiamo già presi tecnicamente. Quindi non potremmo fare una nuova cattura, credo. A meno che non ci siano altri Pokémon qui dentro, ma non lo so. Forse sì, forse usciva qualche altro Pokémon volendo. Allora, spaccaroccia la possono imparare praticamente tutti, ma direi di darla ad Erza per adesso, perché ha 4 mosse abbastanza inutili. Quindi togliamo Segugio. Almeno si renderà utile in qualche modo. E spacchiamo la roccia! Però aspettate, fatemi andare in quest'altra ala. Del cammino roccioso. Uh, c'era uno strumentino. Zubat, l'abbiamo già preso. Mi sembra che qui dentro uscisse tipo Psyduck anche, ricordo male. No, io mi ricordo che ci fosse Psyduck qui dentro, eh. No, no, veramente, eh. Ma se rompiamo le rocce c'è qualche Pokémon da sotto, che non sia Geodude. Pare che non stia uscendo nulla. Boh, spacco l'ultima. Niente. Ah! No, no, no. Non erate la roccia, mi sono girato, mi sono girato. Vabbè, qui dentro penso che non troveremo nulla di nuovo. Io mi ricordavo Psyduck però qui dentro. Quindi, boh, vediamo. Ultimo tentativo. No, non esce, non esce. Forse mi ricordavo male io, forse semplicemente non esce. Però va bene, andiamocene. Tanto avremo modo di fare catture comunque. Ma salve! Abbiamo giusto il percorso qui sopra, quindi ok. Se è un nuovo percorso, non mi ricordo. Allora, intanto, andiamo a mettere in campo... Un po' direi useless, dai, proviamo useless. Ha usato specchio velo il maledetto. Cioè, non ho parole ragazzi. Non ho parole. Non ho parole. Perché? Perché la vita deve essere così difficile? Perché? Era uno dei Pokémon più utili per il mio team. Per le mosse che aveva e per il fatto che fossero stabbate. Eh, ma è dovuta andare così, purtroppo. È dovuta andare così. Camuffamento, geloraggio, ciaone. Abbiamo già perso due Pokémon. Rendiamoci conto. Attrazione, uh, non male. Abbiamo perso due Pokémon in due episodi. Mi sto sentendo un pochino male, tipo. Baccamoglia! Allora, questo percorso è lo stesso di quello che c'era giù. Giusto? 204. Sì, è lo stesso dannatissimo percorso. Quindi niente, dovremmo aspettare il giardino fiorito. Salve! A questo punto metteremo Tauros in squadra. Credo, non lo so. Allora. Cambiamo subito Pokémon. Mettiamo Natsu contro questo Noctowl. Rotolamento, hai capito, eh? Geloraggio! Troppo utile geloraggio. Non facciamoci andare K.O. Natsu perché altrimenti è un problemino. Allora, se mi fai una mossa di tipo acqua sono coperto con Natsu. Quindi, yeah! E ti faccio geloraggio. Ah, ti tolgo poco però. Beccata? Neh. Qui sta il colpo. Beccata di nuovo. Palla clima. Beccata! Mi ha paralizzato con Statico! Ma che sfiga! Qui c'è da usare Taglio. Qui c'è da affrontare delle gemelline. Quindi vediamo un po' quali Pokémon li dare. Facciamo un cambio generale dopo che li abbiamo mandati e mettiamo Mad e Brando. Forse sarebbe il caso, in effetti. Sì. Allora partiamo con più, meno, meno, più ed Erza. E poi cambiamo entrambi mettendo Brando e Mad. Likitang e Froslass? Oh mio Dio! Va bene, Brando. E Mad. Storno di Pugno, va bene. Continua a piovere. Allora, direi Bampata su Froslass e Zuffa su Likitang. Doppia mossa super efficace, ma Brando ha fallito, ovviamente. Ce la facciamo? Bampata? Vabbè, anche Zuffa sarebbe... No, è di tipo Spettro anche. No, no, no. Fuoco Pugno. Ma Brando, ma fallisci sempre! Oh, finalmente! Sono un po' con la squadra scarica. Avrei bisogno della donna! Tanto adesso siamo quasi arrivati, no? Lì c'è uno strumenti... Giustamente il selvatico. Su un quadratino d'erba deve uscire. Ovvio. Fuoco Pugno! Ok, ok. Mad ce l'ha già, però potrei insegnarla a qualche altro mio Pokémon. Non male questa storia degli strumenti randomizzati. Intanto... Donna! Curami! Muoviti! Muoviti! Forza! Sbrigati! Dai! Muoviti! Andiamo! Ok. Devo calmarmi. Non so se ritirare subito Tauros oppure aspettare di fare una nuova cattura. Sapete che non ne ho assolutamente idea. Salve. Aha. Ah, giusto, devo andare all'impianto turbine. Ora ricordo. Oh, sì, andiamo ad affrontare Martes. E lì possiamo fare una cattura, effettivamente. Quindi bene. Possiamo farla anche... No, 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 no. Lì è tutto chiuso, quindi... Quindi niente. E poi inizia un nuovo percorso qui. 205. Va bene. Andiamo a raccogliere le bacca pesca. Perché le bacche comunque potrebbero essere molto utile in lotta, soprattutto all'inizio. Che io poi ho trovato, come oggetto randomizzato, la lenti scelta. Che potrebbe essere molto utile. Magari non adesso, ma più avanti. Ehi! Hai stato rapito il suo papà! Oh! Ok. Posso fare una cattura qui, però uscirebbe solo Magikarp, quindi lasciamo perdere. L'impianto turbine. E qui, effettivamente, posso fare una dannatissima cattura. Quindi, intanto prendiamo un coccio verde. Ok, c'è anche un albero da miele. Sono sempre stato affascinato dall'impianto turbine. Energia eolica pulita. Quando ero piccolo vedevo queste paleoliche in 3D e dicevo, wow! Perché giustamente il gioco che avevo giocato prima di Diamante e Perla era Smeraldo. E non ero abituato a queste robe gratiche. Vabbè che questi erano i primi giochi sul DS, quindi... Weasel! Ok! Proviamo a catturarlo. E ovviamente lo andremo a sostituire. Quindi, ti userei una sveglio pacca. Basta, basta, basta! Ancora una sveglio pacca. Un'azione giusto per portarti a vita rossa. No, va bene, da tanto ti catturo lo stesso. Giusto? Giusto! Preso! Fantastico! E abbiamo un nuovo uovo da prendere. Non diamo un soprannome a Breezel e l'abbiamo messo nel PC. Nella zona catture, sì, perché ho sistemato i box. Oh, pacirisu, va bene, va bene. Abbiamo già fatto la nostra cattura qui all'impianto turbine, ma va bene così. Ehi! No, non devo usare entrare, eh. Va bene, va bene. Se questo è ciò che vuoi, devi prima lottare con me. Io penso che avrebbero potuto fermarmi tranquillamente dicendo No, non puoi entrare. No, non voglio lottare con te. E tipo, il gioco sarebbe finito. Sarebbero usciti i titoli di coda. E invece no. Alla fine, se sconfiggi i cattivi in questi giochi, è perché loro ti mettono in condizione di sconfiggerli. Quindi, è fantastico tutto ciò. È veramente fantastico. Allora, direi di mandare Natsu. Natsu è un'arma fortissima perché, avendo la cosa che previene le mosse acqua, posso mandarlo anche contro il tipo acqua e poi aggello raggio ed è tipo utilissimo. Non ho depositato useless, vabbè. Devo ricordarmi che è andato KO, purtroppo. Andiamo a mettere in campo Brando, ovviamente. E perché hanno tutti quanti oscuro tuffo, voglio sapere. Ce l'hanno tutti. Tutti. Perché? Ok. Ah, sì, è stato molto vergognoso farsi battere da un allenatore di dieci anni come me. Dai, scappa con la coda tra le gambe. Scappa da Martes a farti consolare da lei e dal suo gattone. Allora, adesso dobbiamo andare a ritirare la chiave da quelle due reclute che ci sono lì nel mezzo del... Prato? Fiorito? Credo? Va bene? Nel frattempo ci facciamo un attimino curare perché le cure non sono mai abbastanza. E andiamo anche a depositare useless, poverino, che ci ha lasciati oggi. Che cavolo, sono all'episodio numero 5 e ho fatto già due sconfitte. Ci rendiamo conto? Non batterò mai il mio record. Allora, deposita Pokémon. Andiamo a depositare useless nel box dei caduti. Eccolo qui. E per adesso non andiamo a ritirare nessuno perché ancora non so. Però, potrei prendere l'uovo tranquillamente per farlo schiudere, assolutamente sì. Quindi, ritira Pokémon. Abbiamo Weasel nel box delle catture e andiamo a ritirare un nuovo uovo. L'uovo che mi avete assolutamente consigliato di prendere nello scorso episodio, quello che ha avuto più voti di tutti, è stato... Pingu. Quindi adesso andrò a prendere... Pingu, eccolo qui. Secondo me è un Piplap, poi vedremo. Certo, se esce un Poleon già è ancora meglio. Però ok. Intanto, reclute! Ormai chiamo tutti in questo modo. Reclutine! Ah, se ne sono andate, eh? Sono entrate dentro, eh? Prato fiorito. Stanno importunando un uomo per avere del miele. È una cosa abbastanza ridicola da vedere come scena. Quindi? Non è una lotta in doppio perché dovrò lottare letteralmente contro uno di loro alla volta. Weavile! Vedo che Weavile va abbastanza di moda. Sono contento. Ma andiamo a Mad! Ma quindi se Weavile ce l'hanno le reclute del Team Galassia, Weavile ce l'aveva anche il capo palestra Pedro. Pedro in realtà fa parte del Team Galassia. Oh mio Dio, Illuminati Confirmed! Ok, basta. Extrasenso ed è pure super efficace. Che bello! Livello 10 per più, meno meno più. Prossimo shh... Non ho visto. Mandiamo Erza che è ancora a livello 7. Ah, Slowbro! Oh mio Dio! Va bene. Potremmo andare in Atsu? Però... No, no. Mandiamo Brando. Seriamente. Seriamente! Seriamente! Erza a livello 8. Fantastico. Prima recluta andata. Che bella la musichetta. Eh, me l'hai interrotta, maledetto! Adesso te la devo far pagare per forza. Direi assolutamente Mad. Fuoco pugno! Dai, andatevene via e fatemi ascoltare la mia bella musichetta rilassante. Otteniamo la Turbin chiave. Grazie mille, amico mio. E otteniamo anche del miele. Thank you! Di qua c'era qualcosa. È un peccato che comunque non si possano trovare selvatici in mezzo ai fiori. Sarebbe stato bello mettere, che ne so, almeno tipo... Badiu. Floette. Che non c'era ancora. Quindi sarebbe stato un easter egg fighissimo. Tipo Floette. Tipo what? Questo Pokémon non è ancora stato inventato. O forse sì, ma non è ancora stato messo. Intanto ci freghiamo le baccarancia direttamente dal negozio. Quanto siamo Akab? Troppo Akab, ragazzi. Mamma mia, vi sto emozionando. Ok. Donna! Sì, lo so, sono già tre volte che vengono a romperti le scatole. Abbi pietà. Ma quanto è bello velocizzare anche la donna, così che si possa veramente muovere! Oh, dai! È comunque troppo lenta, nonostante tutto. Si va verso l'impianto Turbine ad affrontare Martes, non prima di aver affrontato almeno un paio di reclute. Non mi ricordo quanti erano ad affrontarti. Due? Credo due. Ah, che seccatura. Molto più bello l'edificio Galassia di Evopoli, comunque. Quello è veramente figo. Ok, posso entrare. È fantastico. Come? No! Hai la chiave! Dai, sparisci dalla mia vista. Pure la musichetta. È bellissima la musichetta del covo del Team Galassia. Salve! E anche questa è molto bella. Saiter! Oh mio Dio! Va bene. Mad, è il tuo turno. Vabbè, potevo andare anche con Natsu volendo, però ok. Ha assorbito la luce. Aiuto. Ok, va bene. Solo a raggio. Tanto tu sei scottato, quindi ok. Ti faccio confusione. Erza a livello 9. Mad al livello 14. Zampillo! Assolutamente sì! Al posto di Aracciaio, che tanto so già che non la userai mai. Fantastico. Oh, affrontiamo anche lui. Voglio livellare. E intanto quando si schiuderà l'uovo? Mai? Zapdos! Ma basta! Sono già due leggendari! Mandonazzo, dai, Mandonazzo. Voglio fargli il geloraggio. Sfruttare il fatto che sia anche di tipo volante. Aia, però mi sta facendo parecchio male. Erza a livello 10. Cos'è che vuole imparare? Tenaglia. Tenaglia è una mossa che mi triggera, perché nella mia precedente serie, quella di Zaffiro Alpha, me la usavano di continuo. E quindi adesso la userò io! Prossima scelta, Ghastly. Oh, va bene, va bene. Posso mandare... Vabbè, adesso abbiamo tutti e due a livello 10, quindi ricominciamo a livellare da Magnemite. Che tra l'altro non ha nessuna mossa in grado di fare del male a un Ghastly. Fantastico. E mandiamo in campo Mad. Direi di andare con un bel Zampillo? Proviamola! Perché no? Tanto sono a full vita, quindi Zampillo fa male. Ok, ce l'abbiamo fatta, direi. Ehi là! Il Pokémon Platino al posto di quello scienziato c'era tipo Plutinio. No, no, no. C'era lo scienziato e anche Plutinio. Ok, se vinco io, loro se ne vanno. Se vincono loro, me ne vado io. Ma tanto io posso tornare. Voi no. Martes! Oh yes! Una delle mie waifu di Pokémon Diamante e Perle. Però è più jovia la mia waifu. Intanto, Bronzor! No, direi di non usare lui, assolutamente no. Mandiamo Mad. Tanto che potrei farlo tranquillamente fuori con un fuoco pugno. Questa lotta ovviamente non la velocizzerò perché stiamo sfidando un capo del Team Galassia quindi voglio rendere la cosa molto carina. Intanto la maledetta abilità Piovischio mi dà sempre fastidio. Metal testata, va bene. Potrei andare con Zuffa volendo anche. Al posto di usare fuoco pugno perché sarebbe Stub ma non sarebbe rallentata da Piovischio. Zuffa! Le mie povere statistiche che caleranno. Ok. Sicuramente gli ho tolto di più di quanto avrei fatto con fuoco pugno, sono sicuro. Nonostante la super efficacità. Giga Impatto! E fallisce! Sono molto contento adesso. Cosa pensi di fare i miei Pokémon? Eh, sconfiggerli e Zuffa di nuovo! Nei giochi originali aveva Zubat e Paragli. Ok. La cosa bella è che Bronzor poi li avrebbero utilizzati veramente più avanti, no? Mi ricordo di sì. Quindi, che figata. Ok. Rimane solo il suo ultimo Pokémon a quanto pare. Prossima scelta Quilava! Oh mio Dio! E qui stira! Basta! Basta! Lasciamo Mad voglio provare a usare Zampillo. Livello 16 non male. Zampillo! Older! Grande Med che adesso raggiungerà il livello di Brando quindi ottimo. Livello 15 Tre bien! Tre bien! E' stata molto scarsa. Almeno pare che nei giochi originali mi faceva sclerare quando ero piccolo. E se ne va. E questo è il famoso padre, eh? Hai lasciato tua figlia a piangere da sola in mezzo al percorso. Eccola qui. Papà! Qui c'è un dialogo che mi fa sempre troppo ridere. Che sente tipo una puzza. Ah, ho dovuto lavorare duramente. Ah, tipo puzza di sudore, credo. No! Forse ho doppio senso per il fatto che si è tipo fatto la cacca addosso dalla paura. Ecco, quello è il fatto. Cioè, fantastico, fantastico. Vi lascio un sondaggio per i commenti. Rispondete nei commenti. Secondo voi, la puzza che ha sentito la bambina? Era il padre che ha sudato perché ha lavorato molto o perché si è fatto la cacca addosso? Ditemelo nei commenti. Sono molto curioso di sapere la vostra opinione su questo fatto molto, molto importante per la nostra società. È di vitale importanza discuterne. Secondo me domani ne parleranno anche i telegiornali. E ora che siamo liberi... Quando si schiude l'uovo, tra l'altro? Uovo? Perché non ti schiudi? Uovino? Uovo? Uovo? Non si schiude? Non si schiude? Va bene. Prima di sapere quale sarà il mio nuovo Pokémon del team, ho bisogno di far schiudere il dannatissimo uovo. Quindi, ragazzi, abbiamo preso l'uovo sbagliato purtroppo. Osservazione uovo, pare che quest'uovo ci metterà molto a schiudersi. E sì, ho già il trucco per farli schiudere più velocemente, ma non va a influire, cioè, diciamo che diminuisce il tempo, sì, ma almeno prima dovevo farmi 30 secondi di camminata per farli schiudere. Ma gli altri erano tutti quanti tipo, l'uovo si sta per schiudere direttamente. Sono fregato, praticamente quest'uovo si schiuderà tra qualche episodio. Ho preso l'uovo sbagliato. Sono molto contento. Grazie a tutti.